Dunque io mi trovavo una volta in America, in una trasmissione televisiva a cui partecipavano veramente tutti i più grandi artisti americani e voi giustamente mi chiedete cosa ci facevo io in mezzo, anche io me lo domando, ma c'ero comunque. E allora nel mio camerino mi avvertito vennero e mi dissero guarda devi venire a sentire una voce straordinaria, una ragazzina che ha una voce incredibile un po' scettico come sono di solito in questi casi, sono andato e alla fine della canzone che dopo sentirete ci fu una incredibile standing overshipping. Allora mio sbaglio, sono andato a congratularmi con lei e lei candidamente mi ha ringraziato e mi ha detto, I would like to sing with you. E io le ho chiesto cosa ti piacerebbe cantare con me e lei ha detto, the prayer. Well, mission accomplished. Lei si chiama Sharice e ha soltanto 16 anni, il resto le considerazioni le farete due. Lei si chiama Sharice e ha soltanto 16 anni, il resto le farete due. Lei si chiama Sharice e ha soltanto 16 anni, il resto le importanno 17 anni, il resto le divindano le farete due. Lei si chiama behavioral diarete due, le sperti f tym frankines, il resto le denezanne, il resto da lavora, il resto di rip później. Ciao! Grazie per la visione 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 Grazie per la visione